Musica Ciao a tutti ragazzi e bentornati Questo è il mio canale Sono qui ragazzi Per portarvi un nuovo video su World War 2 Questa ragazza sarà una challenge In cui voglio provare a vincere un TCT giocando con le pistole E voi magari starete dicendo Che cazzo ci vuole a farlo Non lo so, non ho mai provato Magari ce la faccio a ponere un attimo Magari non ce la faccio Voglio fare appunto una partita con la prima pistola E provare a vincere Vediamo se ci riusciamo Ripeto se non ci riusciamo riproveremo ragazzi più avanti Non è un problema Volevo fare un random live in realtà Un live un po' diverso Quindi mi è venuta in mente sta roba della pistola Anche perché non ho mai fatto un video in cui Da quel che mi ricordo Il gioco appunto con la pistola e basta E quindi ci proviamo Arden Forest mi piace come mapa Quindi potrebbe andar bene Speriamo bene raga Speriamo bene Più che altro non so dove girar Andiamo qua Andiamo subito qua C'è lo spawn lì Ci lanciamo in quello spawn là raga Quello dove stanno già sparando Via via Diretti diretti Via Ok Faccio un nemico Nel nemico Mi hanno rubato la kill Cazzo Vaffanculo Beccati sto colpo in testa va Abbiamo finito i colpi Che sfiga Ok Siamo pari col primo Dai Sta pistola mi piace un sacco raga Ve lo dico da sempre Che è molto precisa Ha un buon danno Amazza in tre colpi Da medie lunghe distanze Da quel che ho visto Anche da vicino forse In realtà amazza in tre Non lo so In realtà è una info Un'informazione Che non so darvi precisamente Perché non Non mi sono mai soffermato A vedere quanti colpi Da esattamente Perché la uso Stato come arma secondaria Quindi Non mi è mai interessato Neanche più di tanto Oh cazzo Eh va è grande Si appari col primo Non sta andando male per ora È una parità abbastanza veloce Movimentata Comunque è forte ragazzi Guardate quanto cazzo gli scioglie Cioè Qualcuno che spara qua C'è un nemico lì Andiamolo a prendere Sparato malissimo Oh meno male che è morto Ok C'è qualcuno qui per forza È proprio scontato Ok Siamo primi raga Siamo primis C'è uno dietro Dietro di me Levati dal cazzo subito C'è un altro Oei Johnny Checco Che fai Andiamo qua sotto No Eh sono un coglione Io mi dimentico Capito Cioè nel 2017 Mi dimentico che non c'è il coltello Mori Ok Sopra di 4 raga Li stiamo dominando Codo Troppo forte Questa cazzo di arma Cioè la voglio provare Cioè in realtà L'ho già provato una volta In veterano Vorrei utilizzarla per bene In veterano Secondo me è devastante Cioè veramente E mo Dove cazzo vado C'è il nemico qua sicuro Quello che Dasta che palle Questo qua oh Mori Ammazzami dai No ci godo Che sei morto È il secondo Quello la raga Dobbiamo stare attenti A non regalargli troppi kill Perché Detto fatto proprio Però c'è Non riesco a ucciderlo Da lui Non è Non è una sega Nel senso Quando me lo trovo davanti Col meter È ovvio che mi ammazza Inevitabile come roba Quindi andiamo proprio lontani da lui Cerchiamo di Ammazzare Che cazzo dispone sto qua Mi sta venendo già l'ansia raga Perché siamo sopra solo di due E quello sta killando Più velocemente di noi Amico lì Non muore Un colpo è basso Li devo dare probabilmente Ed è morto Godo Ok entriamo qua No Mi ha fatto hit marker Quanto godo Ok Bene No Ero ferito L'avrei rotto se no Mi ho sparto troppo prima di lui C'è uno qua dentro Credo Si sta scappando Raga è sotto di me di una quel tipo È un dramma Pari Raga Mi ha superato Minchia raga Sono pari a lui Cioè Sta killando come un treno Sto tipo Devo rosicare ho capito Vevo lo spia pure Io nemmeno ce l'ho Lo avviso Sono un coglione E va È sempre lui che mi ammazza Anche perché c'ha quel sensatore Da bastardo Quindi Non lo senti Quando spara Cioè Non capisci da dove Eh vabbè Grande Non capisci da dove Ti sta sparando Si ampari sempre Raga Lo trovi qualcuno Però Mi ha superato Bene Mo' è un dramma Mo' sono cazzi Raga Mi ha superato Dove cazzo Sono tutti Non è morto Non è morto Muori Sotto di una Niente Ok Ma raga Mi ha superato di due No minchia Mi sento male È riuscito veramente A recuperarmi così Sotto di due No Non lo recupero più Secondo me Non lo recupero più Tre Cioè Ma perché queste armi Per quanto sia forte Una pistola Comun Fanculo Mi rubano pure Per quanto Dico sia forte Comunque Cioè Devi comunque Faticare per uccidere Ogni nemico Lo vedete Cioè Non è che Raga vi giuro Su dio Mi è parita La granata Cioè È stata istintiva Come cosa Tanto non ha ammazzato Nessuno Dicevo Per quanto sia forte Quest'arma Comunque devi faticare Per uccidere uno Lo vedete Cioè Non è che Vuol dire Non è che spari Così a muzza E mazzire persone Ti puoi fare le doppie No Cioè Ho stato veterano L'artiglieria pure Eeeh Vabbè Grande Grande Perso Ufficialmente Eppure col cecchino Fermo lì Quel tipo Sotto di 5 Raga Che devo fare Ragazze Che cazzo Non ce la farò mai Lo so già Non ce la farò Minimamente Mai A fare sta roba Però ci voglio provare Via Doviamo essere molto veloci Eh grande Ma come Come devo fare Cioè È impossibile Per quanto sia forte Sta pistola Cioè Mi è parita la La granata Sono un coglione Per quanto sia forte Sta pistola Ripeto È una pistola Comunque Cioè È forte Ma Eh vabbè Cioè Mi squagliano Proprio da vicino Non c'è proprio Il gunfight Se mi sparano In contemporanea Io muoio sempre Morirò sempre Guarda Cosa No vabbè Ok Sti cazzi Manteniamo la calma Anche se non vinciamo Voglio riuscire a fare Più kill possibile Non so Dove andare Il nemico che mi spara Da dietro Che Ti ampari al primo Diciamo che stiamo Anche beccando Di spawn Di merda Comunque Oh mio dio Mi stava Veramente Ammazzando Cioè Veramente Sempre pari Al primo Raga C'è uno che spara Mamma mia Mamma mia Comunque È proprio Strana Sta pistola Cioè Le pistole In questo gioco Sono proprio Strane Uno Ok Pari al primo No Ho finito i colpi Cos'è successo? Ma Mi si è rincepata l'arma? Si è rincepata l'arma Raga Ma i colpi ce li avevo Non potevo averli finiti Impossibile Ok Pari al primo Siamo pari al primo Cerco di mantenere Sto a prima posizione Grande Ok Mi ha dato un colpo in testa Ha avuto culo Pure la mina Questi usano Mamma mia Mamma mia Fortunatamente ho corazzato Cazzo mi hanno già dato Uno scarto di due kill Raga Di due kill Dove posso andare? Dove posso andare? Sto correndo a cazzo Purtroppo Quando inizio a correre a caso Per la mappa in tct Vuol dire che hai perso Il spawn e Niente E non fai kill Guarda Quella a dieci Io non becco nessuno Io non becco proprio nessuno Cioè non sto beccando nessuno Raga Non sto beccando un cane Muori Sotto di due Oh cazzo Questo l'abbiamo mangiato No Sotto di due Raga Sotto di due Non è tanto Che c'è nemico qui? No no Fermo Fermo Ho fatto una kill Merda No 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 Sì sotto di due Raga Non è tanto Ripeto Il problema è che siamo Siamo al solito discorso Cioè se giochi con le pistole Anche due kill di scarto Sono tante Perché non le fai Come niente le kill Sei comunque molto lento Nel farle Anche perché non puoi Challengeare chiunque Cioè devi challengeare La gente vicina Questo è scappato Non c'è più nessuno Che spona qui Sta sotto solo di una Raga scusate se parlo Troppo ma sono un po' nervoso Oh ma c'è Boh Ecco qua Che sfiga Che sfiga di merda Che ho Ve lo giuro C'è Niente da dire riguardo Solo sfiga per me Fanculo Queste pistole di merda Ma come cazzo le hanno fatte Non si capisce nulla Dove stai sparando Sotto di quattro Dai mi ha dato uno scarto ormai Sotto di quattro Sempre Quello killa Arraffiga Quello killa proprio Arraffiga Muore Come lo cambia Che è impossibile Sei per quattro sotto Si inceppa l'arma Ah no Ho finito i colpi No niente Ho finito i colpi Come faccio a finire i colpi Così velocemente Ok Quattro sotto Raga Io continuo Vado per la mia Sto provando Solo cinque sotto ora Niente Quattro sotto Come killo io Killa anche lui E questo è il problema Solo che lui è più veloce di me Perché può uccidere chiunque Io no Io se non mi ritrovo appiccicati Non li posso uccidere Tre sotto Tre misere kill raga Non sono tante Però Eh niente Non c'è nessuno Andiamo via Godo Mi hanno scopato Questo qua Non è possibile Che non mi spana nessuno A fianco Eh vabbè Eh vabbè Non me ne fotte nulla Raga Lo faccio Era una kill Questa qua L'ho ucciso con le armi Me ne fotto proprio Cioè per principio Non posso morire così Perché finisco i colpi Tre sotto Vado Vado Tre sotto No raga Impossibile È impossibile È proprio impossibile Sta roba Mori Tre sotto Io sto killando come un forsennato E raga Cioè lo state vedendo Sono lanciatissimi Eh quattro sotto Sono veramente lanciatissimi Ma che devo fare Che devo fare raga Più di così Veramente non posso Quello chi l'ha Quello chi l'ha veloce Quanto me Solo che ho una pistola Eh niente Ha vinto lui Ha vinto lui A 29 raga Eh sti cazzi va Cosa No vabbè Non è possibile Sta kill qua Abbiamo perso raga Niente Abbiamo perso Abbiamo brutalmente perso Quattro kill sotto Eh niente Ha vinto lui Vabbè raga Io ci rinuncio Scusate Ci rinuncio proprio Ci ho comunque provato Sono state due belle partite Sinceramente Mi sono piaciute molto Spero l'avete apprezzato anche voi Raga Vi invito a lasciare un like E ci vi chiamo alla prossima Bella Ciao a tutti i nostri spettatori Ciao a tutti i nostri spettatori